Ciao a tutti, come superare la paura dell'abbandono affettivo? Prima di affrontare questo tema, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco ed iscriviti al nuovo canale Felicità Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Allora, come possiamo superare la paura dell'abbandono affettivo? Allora, bisogna tenere presente alcuni fatti fondamentali, che la paura dell'abbandono affettivo deriva dalla paura della solitudine, che deriva dalla paura della morte. Ci sono alcuni modi che possiamo utilizzare per superare al meglio, diciamo così, e venire fuori da questi blocchi che costringono poi a non fare quello che in realtà vorresti fare e accettare situazioni non accettabili, perché la paura dell'abbandono affettivo ti fa poi accettare delle situazioni non accettabili. Allora, la prima cosa è smettere di criticare se stessi. Cioè, la critica a se stessi vuol dire che se tu ti critichi pensi di non poter trovare nessun altro. Invece se viene abbandonato, viene lasciato, se tu ti apri tranquillamente, troverai persone molto migliori, diciamo così, di quella che, diciamo, ti ha lasciato. Per cui, chi se ne fotte. E poi è molto importante imparare anche come secondo punto a stare bene con se stessi, trovare delle attività, degli hobby, delle cose da fare, frequentare tanti amici, vedere la cosa al positivo. Tu puoi muoverti, puoi fare, puoi trovare tante persone, diciamo, con le quali interagire e con le quali stare meglio, diciamo, rispetto a quella che avevi prima. Le amicizie, le conoscenze aiutano molto. Poi valorizzi i tuoi punti di forza. Cioè, hai sicuramente dei punti di forza. Ecco, è molto importante anche interpretare nel modo giusto questa esperienza senza generalizzare. Ad esempio, le donne sono tutte stronze, gli uomini tradiscono tutti. Mai generalizzare. Perché se generalizzi, ti precludi la possibilità di vivere delle esperienze positive, molto positive. E, un ultimo punto, concentrati sul, su ciò che desideri e vedi, diciamo così, il futuro, proiettati sul futuro, su ciò che ti interessa e lasciati alle spalle questa storia che poi, dopo un poco tempo, manco ti renderai più conto che ti interessava, non riuscirei neanche a capire quello. Basta superare, diciamo, una prima fase e poi tutto andrà alla grande, diciamo così. Si presenteranno davanti a te verdi praterie, cieli azzurri e verdi terre, come diceva Battisti. E quindi non devi preoccuparti più di tanto. Bene. Per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, iscriviti al canale e iscriviti al nuovo canale. Felicità, benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao.